Con il mio primo chef Fred abbiamo deciso di volare a Napoli per scoprire le migliori ricette per gli Ammo. Insieme abbiamo esplorato la città alla ricerca dei migliori prodotti gastronomici per creare un autentico menu napoletano. Il primo stop è stato da Sasa alla trattoria Mattozzi, dove abbiamo provato la miglior pizza ed il miglior antipasti. Questo ristorante è uno dei tesori nascosti di Napoli, dove persone nobili e famose vanno a mangiare. Questo posto è di sicuro un'ispirazione per gli Ammo. Quindi siamo in Naples di venire e visitare tutti questi maestri della città napoletana, che è famosa in tutto il mondo. E con un'esercizio proviamo a trovare tutti questi piccoli segreti che fanno questa città magica. Sasa, grazie di tutto. Mi ha fatto un piacere. Venici a trovare in Inghilterra, mi raccomando. La passione per questa cucina proviene dalla mia infanzia, guardando la mia famiglia cucinare. Come ogni italiano che si rispetti, la famiglia è il cuore della cucina. Quindi abbiamo deciso di andare a trovare mia cugina per imparare le ricette autentiche della mia famiglia. Le migliori ricette a Napoli vengono trapassate da generazioni. Quindi abbiamo deciso di visitare Don Giovanni per imparare i segreti dei suoi famosi arancini. Oh, è bene! Ciao! Non c'è male! La cucina napoletana è tutta nella preparazione. Don Giovanni ha preparato del mangiare per noi e dopo averlo provato, eravamo sicuri di aver trovato le migliori ricette per il menù. Un'altra ricetta segreta da aggiungere alla nostra lista. L'ultima fermata è stata da Gaetano per imparare gli ingredienti segreti per la miglior pizza. Il Regno Unito non può dire di aver provato l'esperienza di una buona pizza fino a quando non proverà la famosa pizzattana. In Naples, Giammo significa «Let's go». That's what made it the perfect name for our first family-run eatery. Inspired by the Napoletan roots and our shared love for everything Italian, we start Giammo. With one simple aim, to offer great tasting food served fast. And the secret of Italian cuisine discovered by Fred and I on our trip to Naples are all hidden in the menu here at Giammo. and the corn to the cenicent.com In Maples, Giammo, the Terminalizании Grazie a tutti.